Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale qui in Velox oggi sono qui ragazzi a portarvi un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3 ragazzi oggi siamo qui incredibilmente intanto sto cambiando lo specialista per portarvi un video in una delle nuove modalità che è stata aggiunta uno di questi giorni vi ho già portato l'età della pietra in video di ieri e oggi giochiamo a solo cecchini che è una modalità appunto solo sniper niente di più, niente di meno, siamo in una lobby full italian raga, c'è solo gente con la tag Ita, MNDC Blur777 insomma direi che è una lobby di italiani insomma ho questo, va anche uno entrato con la tag GDSQ insomma ho un vago sospetto che siano tutti italiani comunque cazzapatte ragazzi siamo appunto in questa modalità, solo cecchini su Nuketown e ci sarà da divertirsi perché è veramente molto molto divertente che è una modalità ho già fatto una parità per scaldarmi e devo dire che veramente è molto frenetica più di quanto mi aspettavo sinceramente diciamo che questo è un gioco molto più frenetico magari di World War 2 quindi insomma anche con gli sniper si corre un sacco si salta un sacco ed è molto complicato infatti anche per questo motivo qua ecco diciamo che io non sono proprio un fenomeno e non sono mai stato un fenomeno con il cecchino su questo gioco non ve l'ho mai nascosto proprio per questo motivo perché giocare con gli cecchini su Black Ops 3 non è facile perché non c'è la mira assistita perché si salta un sacco e insomma è più complicato colpire un bersaglio e qua vabbè siamo solo sniper però normalmente quando hai contro gente con le armi è molto complicato killare uno con un'arma in un gioco come questo qua cioè se ti trovi uno che ti jumpa davanti col WMP insomma è difficile prenderlo con il cecchino quindi non sono mai stato ecco un fenomeno però devo ammettere che mi diverto comunque quindi vi invito anche a provarla provate sta modalità perché secondo me ne vale la pena è una di quelle modalità semplici che comunque ti divertono cioè la giochi tranquillo e sei comunque contento e ti diverti in maniera spensierata ecco a differenza magari di altre modalità un po' più più complicate che magari ti divertono anche meno spariamo a caso tanto oddio guarda quanta gente c'è lì oh mio dio erano mille raga io ho sognato per un attimo di fare una kill saltando ma purtroppo non ce l'ho fatta c'è uno là in fondo minchiamo questi si mettono e ci chiudono vi immaginate? cioè vi immaginate? non è impossibile come cosa non è per niente complicata oddio non mi slida muori uno due oddio merda quello era i net glitch devi da sponchillarli raga perché sta modalità cioè sta mappa qua se non sponchilli vieni sponchillato quindi dobbiamo muoverci noi a sponchillare gli altri ok ok avanziamo 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 qua mi li becco muori oh no cazzo era in quel corner non l'avevo visto ok sti cazzo stiamo vincendo i due kill sarà molto combattuta ve lo dico perché salobi qua è stra stra equilibrata cioè nel senso sotto di più o meno al suo livello quindi diciamo che ho sbagliato ho attivato lo specialista perché prima avevo overdrive quindi mi sono dimenticato di averlo cambiato ok affacciati no non sponno più nessuno qui ok siamo vincendo i tre kill vedete c'è comunque sempre equilibrate i punteggi questo mi killa me lo sento mi ha preso lo sapevo ho saltato troppo non lo vedevo più siamo sopra di una sarà molto tirata ve lo dico questo mi spawn killa questo ghirillo è bravo ragazzi da un paio di parere che me lo becco contro è bello cazzuto killa un sacco con lo sniper c'è qualcuno qui oh mio dio muori nascondiamoci qua muori c'è gente che spona qui sicuro uno due dove cazzo è il tipo che ho cazzo sono morto lo sapete vero merda no mi ha fottuto mi ha usato la stessa arma fanculo ok siamo stravincendo raga siamo veramente stravincendo eh cazzo qua la lateral no per un attimo per un millimetro veramente sapete cosa mi sta sul cazzo di questa modalità che ci sono quelli che si mettono tipo il il dragon e sbarrettano diciamo insomma sparano a raffica mi da fastidio perché dai alla fine è un po' scorretto capite cosa intendo cioè siamo tutti con lo sniper da bravi ragazzi ma cazzo è un alleato questo è un alleato pure no ma è un alleato o un nemico non capisco questo è un nemico per forza ma quello di prima era un alleato mi sa vedete quello tipo sbarretta e mi fa incazzare perché tu sei lì che gli spari un colpo alla volta e lui ti sbarretta addosso merda 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 vedi vedi ti hitta un botto cazzo che non ti shotta però ti mette one shot ok non riusciamo a colpire nessuno saltiamo qua oddio ok questo è un nemico è un alleato no è un nemico ci sto capendo niente c'è troppo casino ve lo giuro va oltre la mia immaginazione questa situazione muori no ma cazzo era pieno di gente raga li stiamo sfondando 20 kill sopra porco giuro ho detto che sarebbe stato equilibrato li stiamo massacrando meglio così no merda non ha slide devo ripendere un po' la mano con gli slide ero sono un po' goffo ecco muori ora c'è uno no ho cannato ancora raga faccio schifo cioè mo mi sfondo perché me lo merito cioè infatti me lo merito perché l'ho smirato 40 volte sti cazzi 3 kill abbiamo vinto raga ovviamente ne famo un'altra perché durata veramente un attimo no l'avevo preso è stato bravo lui qua è stato bravo 2 kill ancora una kill ultima the last one let's go raga 27-11 carina come partita e ripeto ne facciamo un'altra perché è durata un battito di ciglia e niente guarda ci era kill cam prima perché voglio dire kill volante incredibile proprio no veramente fa schifo in realtà ragazzi ci becchiamo tra pochissimo con un'altra partita è sempre in questa lobby a tra poco ok ragazzi siamo qui in un'altra lobby ho quittato dall'altra cioè in realtà avevo iniziato un'altra partita con un'altra lobby solo che stavano giocando in troppi con il dragon e con il p06 e ho detto no basta me ne vado perché io voglio giocare un po' con ste armi con i cecchini puliti ed era tipo un puttanaio incredibile quindi sti cazzi siamo in un'altra lobby almeno cambiamo anche un po' oddio mamma mia lo pigliavo questo qua ok sti cazzi siamo sotto già voglio vincere l'importante è vincere non me ne fotte un cazzo di fare tante kill altro voglio vincere non so perché questo accanimento però voglio vincere quello c'ha la tag bio 4 sarebbe bello poterci giocare ora strappa non so quanto possa andare bene per giocare con il cecchino sapete non so quanto possa essere adatta perché troppi spazi troppi spazi stretti quello c'ha il p06 no mi viene a prendere ora che quick che gli ho fatto a caso proprio muori siamo sotto di una kill aspettiamo qua raga se non è qualcuno viene fuori uno lì è morto non è finita secondo me c'è anche altra gente che arriverà ovviamente da qua infatti uno no hit marker no però che sfiga era una doppia va bene siamo pari raga abbiamo pergiato la situazione il tuo sniper è molto più bello non è che è più bello è molto più rapido dell'altro fa più hit marker per carità però è più molto più rapido quindi mi diverto di più uno quello adesso si gira e mi turna no due qua c'è qualcuno carichiamo stiamo vincendo raga muori qua c'è il tra gente saranno spawnati sicuramente è finito qua dentro camperato si ammazzatelo oddio oddio non muore raga ah ok era in mezzo a 40.000 persone che gli sparavano spostiamoci un po' qui sicuramente c'è qualcuno non l'ho preso oh mio dio guarda come sbarretta questo qua c'è incredibile ditemi come puoi ammazzare uno così che ti sbarretta addosso impossibile cioè letteralmente impossibile muori cazzo muori guarda guarda che mi sbarretta addosso ma vaffanculo ammazza l'alleato ti prego sta che non c'è più nessun alleato mamma mia mi sta perseguitando mi stanno chiudendo eh raga è impossibile cioè quando uno che sbarretta così non lo puoi uccidere da vicino cioè o sei veramente bravo col cecchino e lo sfondi e gli dai un colpo secco e lo ammazzi però tipo se sei come me che hanno un sacco di colpi è un problema merda eeeh vabbè oh fanculo beccati sto sto andata di calore e basta ok stiamo vincendo raga di 7 kill questo è fermo potrebbero essercene altri infatti guarda quello col dracon che fa le doppie sento il suo il boato del suo fucile da chilometri ora io lo rubo anche ma non lo uso in realtà perché mi sta sul cazzo cioè è forte come arma però è proprio lo trovo quasi sleale da utilizzare in un contesto del genere perché vaffanculo perché è troppo cioè è troppo forte capito cosa intendo cioè se lo usi in pubblica normalmente ci sta però cioè se facessi tipo una sniper lobby in privata con i miei amici e uno si mettesse sta roba lo piglieria a testate perché comunque è fuori luogo come arma non so se capite cosa intendo cioè è uno sniper sì ma cioè un proprio normale ecco no c'ho la stabilità troppo bassa a livello di verticalità ah merda quindi quando sono in alto sopra i men non riesco a seguirli dovrei mettere la stabilità più alta in verticale però mi ci dovrei abituare un minimo e cambiare l'ora non mi sembra il caso uno questo è fermo c'è qualcuno qui? c'era uno qui sopra siamo sopra di 12 kill smirato troppo ok avevo perso di vista a sto tipo stiamo giocando discretamente bene raga 42 29 facciamoci qui ma qua riprendere la mano con il movement vabbè che su bio 4 non servirà avere sto movement perché tanto non ci sono i salti non voglio morire mi spiace amico andiamo qui 47 a 30 sta parietà sta durando veramente un sacco facciamoci qui sfirato no ne è uno dietro uno davanti oddio questo è quello che sbaretta godo doppio headshot uhu non so quest'urlo dove mi è uscito così mascolino ok questo non mi ha visto uno no dovrei scappiare c'è un altro godo che è caduto giù c'è qualcuno qui no sì c'è uno qui davanti mi ha preso non l'avevo visto ha rametizzato non lo so il mio occhio non l'ha visto perché era bianco tipo ok metti 3 a 8 spostiamoci un po' qui dal loro spawn spawnano sempre questi qua ormai l'abbiamo appurato ok è là sopra no muori uno sopra no troppa gente ragazzi c'è infinita sta parità mancano ancora 20 kill per vincere ma micchie i miei compagni non sono manco a 10 non ce ne manca uno che ha 10 kill ma che è sta roba ma nemmeno contro cioè come è possibile questa situazione mi dispiace amico mi sento in colpa quando sono andata di calore però tutti usano gli specialisti quindi perché non dovrei usarli anch'io ma questo che sta facendo muori no mi ha preso peccato pensavo di averlo preso invece niente no c'è un altro era una free kill ci rimango malissimo quando ho una free kill così nel mirino e poi arriva un altro e mi ammazza è bruttissima qua siamo morti mi ha visto sì se non mi avesse visto muori muori ok 67 a 46 raga pochi kill ci separano dalla vittoria i miei alleati sono arrivati finalmente a 10 kill ok uno sta fuggendo qui non stavo di prendere un wallbang niente no perso di vista che dramma prendere la gente da vicino così facciamoci qui no preso no l'ho stata godo preso a caso ultime due kill raga muori l'ultima no godo mamma mia che partita raga 34-11 porca buttana abbiamo vinto di 20 kill anche qui bella non male ragazzi vabbè la lobby era di livelli un po' bassi e c'è a dire questo se guardate lo vedete anche voi però cioè sti cazzo è stata comunque molto carina ragazzi sperate apprezzato vi dite lasciare un bel like e noi ci picchiamo al prossimo video bella ciao